Dimostrare e ottimizzare la produttività tecnico-economica e la sostenibilità ambientale delle coltivazioni a base di miscanto, un'erba perenne destinata alla produzione di biomasse, per un loro eventuale utilizzo, anche per la prevenzione del dissesto idrogeologico su fasce tampone e terreni marginali. Questo l'obiettivo del progetto europeo GRACE, che coinvolge anche il Consorzio di Bonifica di Piacenza e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il progetto GRACE è un progetto che vede 22 partner di tutta l'Unione Europea, tra i quali il Consorzio di Bonifica di Piacenza e l'Università Cattolica. Per il Consorzio di Bonifica è una sperimentazione scientifica, dove in pratica abbiamo piantato il miscanto, che è questa pianta pluriannale, in comune di Ponte dell'Oglio e in comune di Corte Maggiore. Cerchiamo appunto di fare queste sperimentazioni e capire se le radici di questa pianta pluriannale riescono a risaldare. Le pendici e quindi avere un effetto di prevenzione del disassi idrogeologico. Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili dell'Università Cattolica sta conducendo invece altre prove sperimentali, con diversi genotipi di miscanto e canapa, nella provincia di Piacenza, per dimostrare sia la fattibilità delle coltivazioni a specifiche destinazioni d'uso, che l'adattamento dei vari genotipi a condizioni di coltivazioni marginali. Quali sono i riscontri ad oggi? Ad oggi è il primo anno di coltivazione dove abbiamo messo giù diversi genotipi, diverse prove, stiamo confrontando 14 diversi genotipi di miscanto e già dal primo anno abbiamo osservato differenti percentuali di attecchimento che possono indurre, nel corso degli anni, a differenti produttività e differenti risposte all'ambiente marginale, come possiamo avere un terreno contaminato dove alcuni genotipi potrebbero essere utili al fito rimedio, quindi l'estrazione di metalli pesanti e comunque degli inquinanti presenti, o al contrario i diversi apparati radicali e diversi genotipi possono fornire diverse risposte in termini di contenimento dell'erosione in terreni declivi propensi all'erosione.